Mettere in atto controlli specifici preventivi per la verifica delle reali rese in campo della campagna vitivinicola 2023 e avviare l'iter per la riduzione delle stesse attraverso la modifica dei disciplinari di produzione dei vini. Sono stati questi gli argomenti affrontati in un incontro chiesto da FEDA Agripesca, Conf Cooperative Puglia, insieme alle altre organizzazioni di categoria tenutosi presso il Dipartimento Agricoltura Bari. Abbiamo avviato l'iter per poter, attraverso la regione e i consorzi stessi, aumentare il numero dei controlli. L'ente certificatore ci ha rassicurati che raddoppieranno il numero dei controlli sulle rese ovviamente preventive in campo e quindi questo è un ulteriore messaggio che si lancia proprio sul tema di attenzionare eventuali problematiche che ogni anno si verifichano puntualmente durante la campagna. Altro tema importante è quello della riduzione delle rese. La regione, l'assessore, con una delibera aveva innescato un processo, attraverso quella delibera di indirizzo, aveva innescato un bel dibattito. Adesso noi organizzazioni, insieme sempre ai consorzi, stiamo avviando tutto l'iter burocratico che è necessario per poter presentare al Ministero la richiesta di rimodulazione disciplinaria e quindi della riduzione delle rese stesse. Tuteleamo un sistema economico e produttivo importante che diversifica l'offerta della nostra regione aumentando la qualità, sta spingendo molto sui vitigni autoconi, sui bianchi e rosati, ma anche sui vini rossi di qualità. Questo significa affermarci, ma anche garantire il consumatore finale. E nonostante il dramma della peronospora quest'anno, stiamo provando a tracciare una linea anche per gli anni a venire, questo per evitare che la Puglia non sia pronta all'adeguamento non solo dei disciplinari di produzione, ma anche di una valutazione puntuale sulle rese, territorio per territorio, non confliggendo all'interno della Puglia, ma presentandoci come un sistema economico e produttivo molto forte e anche che raccoglie le sfide che sono importanti nell'ambito italiano ma anche nell'ambito internazionale, proprio sulle produzioni di qualità.